Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati al vostro GXNiCover12 Oggi ragazzi correte al titolo Nuovo evento Delirio di uova pasquale Un evento pasquale che hanno appena aggiunto E io sono già a 350 uova Perché vorrei Prendere del... No questi passi non li voglio dai Vorrei un'animazione Garantita però Adesso voglio anche questa skin garantita Ma io che Che animazioni ho Se vinco a questa Vabbè Mi serve proprio quella di coniglio però vabbè Dai raga Facciamo subito una partita perché Voglio subito vincerne una Perché Ho già fatto tipo 10 partite Prove per vedere come funzionava Questo evento Raga non sono arrivato sempre in finale ma non vincevo mai Ma perché o mi prendevano a pugni O laggavo e finivo dentro Oppure come quella volta che ero in lava l'anno Mi glicciavo In mezzo ai blocchi però Vabbè Ok già partiamo con bombardment Con migliaia di uova di Pasqua che girano E a noi le uova di Pasqua ci piacciono Raga Visto che sono uscite le nuove Come si le nuove Carte Bustine Le Come si chiamano Le Non le carte Sì per dire Le carte Di Stumbleguys Che vi pare Sembra una volta Live O vi faccio La mia opportunità Per togliere Per togliere quel bot Perché io odio i bot Perché praticamente Gli hanno creati Per fare ad esempio Le partite personalizzate È morto Mi sa già Vabbè Però Tu vinci subito Perché quello si butta subito sotto È brutto Non hai manco il tempo Di ragionare Su come fare i recovery Che quello muore Già Sono scarsissimi Vabbè che sono Intelligenze artificiali Ma è ok Che le intelligenze artificiali Sono appunto Intelligenti Però Queste di Stumbleguys Sono scarse A giocare Ok Ci siamo qualificati E Finalmente è morto Questo pagliaccio Sì è morto Perfetto Perché Perché sì Lo volevo morto Vabbè Non perché Li voglio male Ma perché Voglio togliere i bot Perché in queste mappe Ad esempio Ti body bloccano E cado sempre Preferisco cadere Con un pugno Di uno Che No Me l'ha pure rubato Che Serbo di bloccato Pensatela Perché io così voglio Di qua Madonna Sono messo male Perché Qua Io scivolavo A causa dei bot Ma io preferisco Tirare i pugni E poi anche Filare Morire Che cosa ho visto Boom No Non è fortissimo Non è fortissimo Il mio pugno Qua gli lo schivo Perché ormai So come si schivano i pugni Muoverti Muoviti 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 Schiva Schiva Scappa Facciamo finta Ecco abbiamo vinto Non ci credo Siamo riusciti a vincere Vabbè In caso Ho letto la community Dicono che non posso dire parolaccia Altrimenti mi censurano il video Quindi io non lo dico Però non credo che Che Vabbè Che avete capito Non sia una parolaccia Vabbè Abbiamo vinto 200 di queste Abbiamo raccolto solo 8 Va bene Riscuotiamo le ricompense 40 Va bene Va bene Va bene Andiamo a arrivare a 400 Siamo a 500 Dai 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 No Questo è 700 Ah non lo sapevo Vabbè Dai 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 Provate la partita Su Tanto vi chiedo Gentilmente Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina E lasciare like Non so se l'ho già detto Però vabbè Se volete Iscrivetevi anche Al mio canale TikTok Che si chiama GXNICO PRO 12 Se non mi sbaglio GXNICO PRO 12 Si Fa niente come lo scriviate Però La foto profilo Del Del canale TikTok E' uguale A quella di YouTube Quindi se trovate Quella Iscrivetevi a quella Grazie Poi Non siete obbligati A fare Oddio Giangorale Non mi è mai Dicevo Che Giangorale Da tanto che non ci gioco Quindi ho perso Anche abitudine Però Dovrei Dovrebbe essere rimasta Per dire Il trick Di soffare Senza Sbagliare Se cadevo Raga Affelavo Malissimo Dai C'ho pure una mosca Davanti agli occhi Ma Togliti Oddio Oddio Mi stava Prendere Quello lì Ma adesso Lì Ho un pugno No Ho filato io Mi ho cado No Mi ha preso Il check No Come Ma dai Ma li sono Gareggiando sopra Ma perché Dai Dai C'ho pure una zanzara Su la mano Levati Allora Sto litigando Con una zanzara Ma non posso Togliere le mani Se no perdo Ok E ci qualifichiamo Ecco qua Morta Mamma mia C'è Oh Questa che se la balla No vabbè Mi danno fastidio Seriamente Le Le zanzare Quando mi danno fastidio Cioè a tutti Ti danno fastidio E Mi chiedo a che cosa Servano appunto Le zanzare No Secondo me Non servono a niente Allora Semifinale In bot bash Prendiamo già Questo uovo Facciamo un finto trick Per cadere di sotto Poi cado davvero sotto Prendiamo un pugno Questo Perché Così Si C'ho voglia Ma muoio Vediamo vedere Il karma Ecco L'ho morto così Non so come Io ho paura Sempre di fare E ma muoio Vuoi vedere No Si Ok Lancio lì la banana Che se tutto va bene E che non mi calpestano Appunto No Non fare Ok Così A posto Sono protetto Ecco C'ho approvato E io Ma te lo do io Ma vabbè Ci siamo qualificati O me adesso Trick da banana OP Però dopo un po' Diventa scocciante Perché ti arriva Quello là Che ti dira Una scivolata Alla banana Così non prendi Così non ciampa Per dire E la toglie E poi In quel momento Ti arriva La coccinella Che ti colpisce E vai fuori La mappa E' orribile Quando ti fanno questo Però vabbè Finale Finale io spero In block dash Su me Predictato Perché In block dash Mi sento meglio Come dire Ragazzi Prendi una Una di queste Come Non l'ho presa Sono già finite No 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 Niente Me le hanno prese tutte Insomma Tanto ora mi vendico Perché me le hanno Rubate E non si rubano Le uova Allora Dai speriamo di vincere Per le uova Ti prego Boom Becca Ok Uno di loro Mi sono vendicato Uno Ora mi vendico Di questi niente No 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 Muoio Allora Dicevo Ora mi vendico In qualche modo Niente Stanno scappando tutti Ok Saliamo qui Saliamo qua Andiamo qua Oddio Oddio No 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 Qua muoio Se tutto va bene Ok A posto Boom Niente Mi scappano tutti Predictano Cos'è sta cosa Non so Se Potrei fare 20 minuti Di video Perché Non lo so Perché ogni tanto Ti posso Come dire Ogni tanto Il mio bravo tablet E la mia Grande memoria Mi eliminano il video Because Perché è così Non lo so Vuole così Raga adesso dovrebbe uscire Eh no Pensavo un altro blocco Ah eccolo No 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 Ma dove vado Eh raga abbiamo perso Ok Ok questo Ben trick uscito Scivolato in tempo Ma fa Oh non fare Ah dai Summa ci salviamo Ma mi scappa Ah va bene Ci siamo Abbiamo vinto Per le nostre uova di Pasqua Va bene Se ho fatto Se ho fatto Questo strano verso È perché Volevo tirare il pugno Ma avevo paura di cadere Quindi Ho fatto un verso Che almeno Predictava la mia morte Se non mi sbaglio Dovrei riscuotere le ricompense Che sono 40 ancora Ma quante cavolo Di 40 devo fare Vabbè 848 Prendiamoci dai Questo Animazione Perché se no Mi rompo le scatole E presto mi prendo Questa skin Epica In questo video Ve la voglio far proprio vedere Che me la compro Animazioni Vediamo se almeno È bella Sì dai Bellina Dai 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 Ah Facciamo Devo fare un cambio Non devo fare questa Che cos'è Se non mi Ah Queste ce ne sono Però di coniglio Forse da raro Sì Ok Questo ha senso Così ha senso Così ha seriamente Senso Oh raga Ma sono scemo Non ho preso Non ho messo i passi Che passi ho Banana Io ho comprato Quelli di pasqua Li devo togliere Ecco perché Fatto un cambio Perché ora ci pensavo Che Ma scusate Perché non metto Il coniglio ai passi Poi mi sono ricordato Che i passi davvero Li ho comprati Quindi devo Mettermeli Però un'altra cosa Che non ha senso È che il coniglio Con le uova di pasqua Dietro Infatti Non hai comprare Quello delle Carote Però chi se ne frega Dai Se è sempre uguale Presto Raga Davvero In questo video Devo farvi vedere Che compro Quella skin Ok Quella skin Ok Ok Bene Perché ve la voglio Davvero far vedere Ma raga Non lo so perché Mi si è bloccato il video Ora me ne sono reso conto Vabbè Ci siamo qualificati Era laser tracer Però Raga Volevo registrarla Ma non lo sapevo Che si è bloccato il video Quindi Vabbè Fa niente Andiamo Andiamo Prossima partita In aneidrop Si aneidrop Perché sono andati Guardando una cosa Quindi non sapevo Sarà davvero aneidrop Sembrava sperando Perché in aneidrop In semifinale Siamo bravissimi Anche se Se non mi sbaglio Nelle partite Normali Aneidrop In semifinale Non è uscita mai Nooo Perso Oddio ci salviamo? Ci abbiamo fatto Non ci credo Prendiamo questo Grazie Non so se era Finale o la semifinale Quindi io nel dubbio Taglierei E chiude Qua la strada In modo che Chi vuole cadere di sotto Ecco Tipo lui Cade Non Non mi prendere Non ci provare Ma Io non ho capito Se questa era Sì era Semifinale Per forza Siamo tipo Sì era Semifinale Vero Finale In bot Bash Ragazzi Taglio un po' Perché se no La memoria Potrebbe Far saltare Il video All'improvviso Tipo Tipo Pensavate Che fosse Che fosse Finito davvero Vabbè No tanto Non ci cascava Nessuno Perché Non so fare Gli scherzi Oh l'ho ripiazzata Benissimo No Col cavolo Che l'ho Messa bene Eh no Non ci passa No 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 Meglio Non rischiare Ma dov'è Che è il giusto Luogo Per lanciargliela Tipo Oh perfetto Sperando No Era sbagliato No E ho perso Vabbè Ragazzi C'è Ah Riscuoti le ricompense Riscutiamo Subito Uh 15 gettoni Perfetto E 36 Di questi Facciamo Un giro E andiamo A fare L'ultima partita Raga Perché ho paura Che mi si blocchi Davvero il video Perché mi gira Questo Tanto non me la dava La speciale Per un attimo Ci ho creduto Però vabbè Epica Vabbè Dai raga Andiamo a fare L'ultima partita Allora raga Scusate Non ho registrato Inizio game Perché ho guardato Prima di Riniziare Una nuova partita La memoria E Ma mi Ah Voglio dire Che Mi manca Tipo Tra poco Tipo Salta Quindi Devo muovermi Quindi Vi ho tolto Inizio game Che è durato Tipo Un minuto E già un minuto Per il mio tablet Non li va bene Dai G Stavo per dire Una brutta cosa Però Vabbè Ci siamo salvati In un modo incredibile E Tanto che sto guardando Il counter Vabbè Partita la pubblicità Mi Di Socio Però vabbè Il counter Degli iscritti Perché Ma perché Sono girato Siamo a 1834 Ma una volta Eravamo a 1837 Due giorni fa Eravamo Eravamo 1837 Eravamo a 1834 Raga Quanti cacchio Ma raga Ma Io ve l'ho anche detto Che se non sto facendo video Per colpa della scuola Mo ci sono i compiti Mo ci sono i compiti Delle vacanze Ma no Ce ne hanno dati Una caterva Quindi raga Non riesco A fare tutti i giorni I video Non è che Vi dovete Discrivere Perché non faccio video Raga Ci vuole Un po' Un po' Di tempo Anche per trovare Le idee Perché non posso Copiare gli altri Questo mo Non l'ho visto Quando evento pasquale Dico ok Facciamo Visto che è quasi pasqua Però Oh Questa notte Già Cresca Oddio Un po' Arrabbiato Eh Vabbè Abbiamo vinto Con il nuovo balletto E raga Basta Siamo arrivati A 16 minuti Il mio tablet Mi esplode in mano Direi anche Di terminare Qua Grazie a tutti Ragazzi Per Aver Guardato il video Spero che vi sia piaciuto Cos'è sta cosa Cos'è Cos'è Ma raga Cos'è Quella roba Che ho visto Una nuova emot Una nuova skin Cos'è che mi ha dato Passi Forse Non so che mi ha dato Scusate un attimo Ma Ah Bella Vabbè Spero che a tutti Il video vi sia piaciuto Grazie a tutti Per aver guardato E da Nico È tutto Bella